bene sfumiamo questo divertente brano di Daniele Silvestri Salirò e adesso continuiamo a salire con l'ultimo ospite di questa puntata di Quarta Parete del Teatro in radio parlando appunto di lui che è un attore dalla solita formazione teatrale diplomato all'Accademia d'Arte Drammatico Silvio D'Amico che ha maturato nel suo lungo percorso artistico tante opportunità tra televisione e soprattutto teatro attore di grande esperienza e personalità l'ultimo spettacolo in ore di tempo è stato Neve di carta messo in scena nell'autunno del 2019 al Teatro Argo insieme a Elisa Elisa De Usagno che è anche la la sua moglie sua moglie spettacolo che si dovrebbe riproporre e tocchiamo ferro a metà marzo all'altrove teatro studio testo liberamente ispirato al libro Ammalò di Tessa storia del manicomio di Teramo di Anna Carla Valeriano saluto e ringrazio Andrea Lolli ciao Andrea ciao 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 buongiorno a te buongiorno allora io ho citato l'ultimo spettacolo che insomma quello che avete portato in scena te ed Elena e che speriamo naturalmente si possa concretizzare con l'aria apertura auspicabile a marzo Andrea guarda noi lo speriamo è chiaro che i tempi sono brevi i tempi sono molto brevi quindi temo che forse non ce la faremo temo che non ce la faremo però si riuscirà a recuperare in qualche modo guarda speriamo di sì perché è un testo bellissimo questo tra l'altro grazie 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 è uno spettacolo a cui teniamo tanto è lo immagino al quale tra l'altro è abbinato anche una mostra fotografica giusto Andrea è abbinata una mostra fotografica allestita da Anna Carla Valeriano che è la collega ha scritto i due libri l'autrice certo che è l'autrice dei due libri poi da cui poi Venisa si è ispirata per lo spettacolo dopodiché Letizia Russo che è una delle secondo me una delle migliori drammatose che abbiamo in Italia ha scritto il testo per noi è stato un regalo meraviglioso perché Letizia ha scritto una cosa bellissima allora parliamo di questa bella storia tra il poetico e il drammatico no eh tra Gemma e Bernardino yes allora eh praticamente ehm questa è una coppia Gemma e Bernardino sono due contadini abruzzesi del novecento sì eh dicevi abruzzesi abruzzesi due contadini abruzzesi eh dei primi del novecento eh insomma intorno alla prima guerra mondiale eh che cosa succede succede eh che eh Gemma non può dare figli a Bernardino sì eh quando una donna era sterile specialmente appunto in queste situazioni così contadine eccetera eccetera era già una donna eh additata certo una persona che poteva fuori dagli schemi fuori dagli schemi certo e e e e quindi in qualche modo sobbillato dalla madre eh Bernardino eh chiuderà la moglie in manicomio l'accompagnerebbe come la lascerà lì e dopo dieci anni in qualche modo per un motivo che adesso io non vado a raccontare certo non facciamo spoiler eh è l'idea poetica bellissima di questo di questo eh eh di questo spettacolo no da cui poi trae eh il titolo neve di carta nasce proprio da questa da questa idea eh per cui Bernardino poi dopo dieci anni farà questo viaggio per andare a recuperare la moglie e parallelamente noi assisteremo al viaggio invece a ritroso di Gemma cioè un viaggio all'interno del manicomio che lei fa con la mente e questo è un momento di grande poesia Andrea eh eh molto bello è molto bello guarda io devo dire una cosa io ho una nostalgia nel senso io non ho nostalgia di ritornare a fare teatro io non so già di ritornare a fare questo spettacolo eh immagino immagino eh noi lo amiamo tantissimo tra l'altro è una storia che un po' fa luce sul su un sistema sociale fondato sull'esclusione Andrea assolutamente perché si parte la paura del diverso la la povertà il vagabondaggio la trasgressione dei costumi c'è tanta roba dentro ma c'è della roba che possiamo trovare anche adesso è chiaro che all'epoca c'era un discorso storico ben preciso cioè il manicomio andavano le persone che andavano anche gli anarchici ma come no come no è vero la metà il tre quarti delle persone venivi subito etichettato come matto insomma come matto perché se eri fuori dal sistema comunque ecco se eri un anarchico dai poteri venivi chiusi in manicomio se eri una donna magari con una sua esuberanza o cioè venivi chiusi in manicomio cioè nel senso in manicomio credo che ci fosse più della metà fossero chiusi se essere matti ci diventari matto ci diventari pazzo certo lì dentro capito quindi ecco io vorrei aggiungere andrea che questo è un testo che si muove anche quando sta fermo sì è vero è verissimo grazie è bella questa cosa che dici e anche urla dove anche la c'è il silenzio aggiungo quest'altra battuta è bello questo che dici ti ringrazio perché sai noi ci muoviamo in uno spazio non abbiamo fatto questo spettacolo in spazi relativamente piccoli certo me lo ricordo devo dire una cosa anche perché poi in realtà io ed elisa in scena non ci incontriamo mai sì non vi incrociate ma non ci incontriamo mai veramente sì 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 è vero però è vero c'è quest'idea di viaggio cioè c'è quest'idea di movimento pure che siamo fermi perché fondamentalmente ognuno dei due a uno spazio scenico dove muoversi no certo certo un proprio contesto che cosa un proprio contesto intendo dire un proprio contesto dove muoversi e ci sfioriamo ma non ci incontriamo mai se non poi io non voglio raccontare no no vabbè non togliamo la suspense al pubblico perché io veramente invito tutti quanti sperando appunto che tutto ciò si possa realizzare magari vabbè noi vabbè noi facciamo tifo ovviamente speriamo che insomma ecco ci sia la possibilità comunque se non a marzo di poterlo recuperare l'anno prossimo perché con ottavia con ottavia sì con ottavia giorgio dell'altrove teatro esatto con l'altrove teatro recupereremo l'anno prossimo certo spettacolo che vogliamo fare a tutti i ma perché ti ripeto ve lo state coccolando come un figlio praticamente questo spettacolo è un figlio è un figlio noi ce lo portiamo avanti da tre anni abbiamo fatto abbiamo abbiamo cominciato con dei piccoli step abbiamo fatto dei poi è estremamente complesso è questo spettacolo complicatissimo dura un'ora ma noi finiamo questo spettacolo siamo devastati esausti esausti immagino bene andrea senti io ti ringrazio per questo intervento ma è stato estremamente esaustivo devo dire questo spaccato di questa storia di questi due giovani insomma di due contadini abruzzesi veramente giovani insomma giovani ma praticamente quello mi riguarda è un termine un po eccessivo vabbè vabbè ma insomma guardiamola in positivo insomma quindi giovani dentro certo beh chi fa teatro deve essere sempre giovane dentro caro andrea e allora naturalmente speriamo di vederci appena possibile in qualche teatro e magari proprio all'altrove ricordo neve di carta con andrea lolli ed elisa de usanio tratto dal libro ammalò di testa storia del manicomio di teramo di anna carla bariliano poi ci sarà anche questo da letizia russo scritto da letizia russo scusami ragione spettacolo al quale abbinato anche una mostra fotografica che ovviamente farà farà da cornice allo spettacolo caro andrea un abbraccio e tanti cari auguri e naturalmente sempre ricordo la regia scusami la regia è di elisa e di daniele muratore esatto in tandem esattamente a quattro mani a quattro mani bene andrea un abbraccio tanti cari auguri e buon teatro sempre sempre un abbraccio a te grazie a presto a presto ciao ciao bene abbiamo parlato con andrea lolli che ci ha raccontato di neve di carta e ci abbiamo ormai velocemente verso la fine volevo solo ricordare velocemente una manifestazione che si terrà domani alle 14 al tato argentina e dopo di che si sposterà a montecitorio l'hashtag è un anno senza eventi e un anno senza reddito è una manifestazione a sostegno dei lavoratori dello spettacolo e della cultura partecipate e detto questo vi saluto con la solita frase di fine trasmissione che questa volta fa così in un film l'imbecille non può fare che la parte di un imbecille a teatro si può nascondere in tv viene fuori subito vittorio gasman e allora io vi ringrazio ringrazio naturalmente Claudio Bernabucci per la sua assistenza tecnica ci sentiamo lunedì prossimo a questo punto sempre solito radio solita radio radio sonar e quindi evviva il teatro grazie a tutti e buon proseguimento